Ciao, sono Emma di Upel Milano e vi presento la prima parte del corso su Safety and Security L'incontro tratterrade La gestione degli eventi e manifestazioni temporanei Standard comuni di valutazione da parte degli enti competenti Trattenimento e spettacolo La corretta lettura della tabella A del DLGS 2222016 Il ruolo delle commissioni di vigilanza per le manifestazioni di trattenimento e per altri eventi diversi Le verifiche di incolumità Ruolo del tecnico abilitato Cosa monitorare per l'aumento del grado di sicurezza e l'incolumità degli eventi quando presente il trattenimento Il relatore è Saverio Linguanti Consulente legale, specialista in diritto amministrativo e legislazione del commercio Per maggiori informazioni vai sul sito upel.it Per maggiori informazioni vai sul sito upel.it